Con NonSoloAnima.tv c'è Stefania Montagna. Stefania, lo sciamano come considera la morte, il mondo dell'aldilà e come si rapporta con esso? Allora, la morte è praticamente l'inizio di un'altra vita ed è importante aiutare le persone anche a morire. Lo sciamano, secondo le antiche tradizioni, è anche uno psicopompo, cioè colui che aiuta le anime ad andare nella luce. Poi quando sono nella luce queste anime possono fare la loro evoluzione oppure possono reincarnarsi. e quindi lo sciamano ha un compito importantissimo per insegnare a queste anime ad andare nella luce ed evitare che rimangano nel mondo intermedio e quindi attaccarsi ai vivi e a stare male. Grazie a tutti. Grazie a tutti